Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sul raccordo Bettolle-Perugia, traffico rallentato per incidente avvenuto tra Cortona e Foiano della Chiana in direzione del raccordo Siena-Bettolle. In A1 fare attenzione per una perdita di carico tra Valdarno e Incisa-Reggello in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Firenze-Impruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla statale 64 Porrettana, fondo stradale dissestato tra Pavana-Pistoiese e Sasso-Marconi in entrambe le direzioni. Sul raccordo A1-11 Firenze Nord, l'area di servizio di Firenze Nord alla stazione di rifornimento chiusa per un guasto. Muoversi di Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Un buon viaggio!